Bello ma fragile, queste le parole chiave intorno a cui Lance Giovani ha voluto presentare un bilancio e nello stesso tempo aprire una riflessione sulla ricostruzione e sulle ricostruzioni d'Italia. Un convegno dal titolo emblematico Fragilità e ricostruzioni appunto le risposte alle emergenze che si è tenuto nella sala ipogea del Consiglio regionale con relatori e testimoni d'eccellenza che si sono confrontati per tracciare una sintesi delle azioni messe in campo dopo il terremoto dell'Aquila. Che cosa ha imparato il paese da quella tragedia? Come procede la ricostruzione? E quando soprattutto si potrà smettere di parlare di ricostruzione e tornare alla normalità? Tutte domande a cui Lance Giovani ha cercato così di dare una risposta. Noi abbiamo voluto fare questo convegno qui all'Aquila proprio in occasione del decennale del terremoto proprio per fare anche una sorta di confronto tra quanto è stato fatto in questa città in termini di ricostruzione sapendo che comunque si sarebbe potuto fare meglio ma ciò nonostante molto comunque è stato fatto e altre calamità naturali che purtroppo abbiamo constatato nel resto del paese come per esempio il terremoto del 2016 o come purtroppo la sciagura del ponte Morandi. Quindi abbiamo voluto proprio fare un confronto tra le best practice applicate in questa città e altre situazioni in giro per il nostro paese. Diversi gli aspetti emersi nel corso del dibattito. Le priorità sono l'elaborazione di un testo unico delle emergenze e della ricostruzione per poter avere a disposizione una normativa omogenea che stabilisca che cosa fare all'indomani di un qualsiasi evento catastrofico. Al testo unico sta già lavorando il sottosegretario con delega alla ricostruzione Vito Crimi il quale ha anche tranquillizzato sull'arrivo dei 10 milioni di euro per le minori entrate del comune dell'Aquila e che ha indotto il sindaco Pierluigi Biondi a dimissioni di protesta. Il decreto ormai per come siamo in questo momento settimana prossima dovrebbe essere pubblicato in gazzetta. Siamo ormai agli sgoccioli perché abbiamo dovuto coordinarlo con lo sblocca cantieri che ci dà anche un grande rilancio perché lo sblocca cantieri all'interno contiene tante norme applicabili a tutti i terremoti. Bisogna mettere attorno a un tavolo tutti i soggetti coinvolti e cominciare a capire adesso cosa è rimasto. Bisogna fare il punto della situazione. Una volta chiarito cosa è rimasto, quanto serve, si fa una progettazione definitiva.